Musica Turismo Vallo di Diano per l'assessore Corrado Matera serve coesione e la creazione di pacchetti turistici condivisi. Montesano sulla Marcellana ha istituito il servizio in forma giovani fino al 31 agosto e usce il lavoro per i cittadini. Laurino oggi ultimo giorno di jazz in Laurino, grande successo per i concerti e partecipazione ai corsi di musica. Teggiano questa mattina la conferenza stampa di presentazione del convegno internazionale di scrittori italo-canadesi. Sassano ieri sera allo spettacolo dell'Istituto Artiscenniche Vallo di Diano. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento pomeridiano con l'informazione di Uno News. In apertura parliamo di turismo. L'assessore al turismo della regione Campania Corrado Matera è in questi giorni presente nel Vallo di Diano a seguire diversi appuntamenti. In questa occasione è tornato anche sulla vicenda legata proprio allo sviluppo del settore turistico valdianese, un settore su cui il Vallo di Diano può e deve puntare secondo l'assessore Matera perché ci sono le potenzialità. Corrado Matera però ribadisce un concetto che è stato già più volte esaminato in merito proprio alla mancata cooperazione tra i diversi comuni nel realizzare pacchetti turistici adeguati alle attività del territorio ma soprattutto organizzati in modo da evitare che vi siano delle concomitanze di eventi. Matera parla delle numerose opportunità che la regione oggi offre per diventare località a forte attrazione turistica ma ribadisce ancora una volta la necessità di stare insieme e collaborare. Ascoltiamo l'assessore Matera. Questo è sicuramente un territorio meraviglioso. I comuni hanno presentato progetti importanti per cui sono stati finanziati perché ne è stata apprezzata la qualità progettuale. Tenga presente che noi dobbiamo nella prospettiva organizzarci per bene. Io penso che il Vallo di Diano si può giocare una grande partita. Ci sono tutte le condizioni. Stiamo lavorando con grande determinazione. Stiamo ragionando sul sistema Campania a mettere un po' in rete le tante meraviglie che ci sono. Qualche giorno fa ho preso contatti con Sgarbi per interessarlo di un progetto rilevante che riguarda le tre certose Capri, Napoli e la certosa di Padula. Bisogna collegarsi però con i grandi centri perché dobbiamo fare rete e fare in modo che il turista da Napoli e da Capri si possa spostare poi sul territorio. Io penso che ci sono davvero le condizioni per cambiare pagina. L'obiettivo di tutte le amministrazioni deve essere la valorizzazione di questo splendido territorio che a mio avviso negli anni passati ha subito delle ingiustizie. Per quanto riguarda il Cilento Blu che sicuramente è stata un'operazione importante, un vecchio progetto che è stato recuperato e che ha avuto un effetto meraviglioso. Le spiego. Tenga presente che noi attraverso Italo e Ferrovie dello Stato ci sono stati 5 milioni di contatti. Immagini un poco la grande promozione che è stata fatta sul territorio. Per quanto riguarda invece i pacchetti turistici ai quali lei faceva riferimento, io sono convinto che noi dobbiamo fare rete all'interno di un'area molto più vasta che potrebbe essere l'ambito territoriale che andremo in qualche modo ad avviare e spero a definire entro la fine dell'anno e all'interno di questi per cui creare le condizioni per fare rete all'interno di questo ambito territoriale creando anche i poli turistici, l'accordo pubblico privato e all'interno di questo ambito creare delle condizioni perché si possa parlare di turismo per tutto l'anno. Ci troviamo in un territorio dove ci sono le condizioni per parlare di turismo religioso e su questo stiamo lavorando seriamente, di turismo verde, di turismo archeologico e di turismo culturale, di turismo balneare se pensiamo alla zona del Cilento, di turismo enogastronomico. Insomma creando un sistema io penso che si possa parlare di turismo per l'intero anno. Un'ultima cosa perché è importante che si metta in evidenza. Io per la verità è d'aprile che svolgo il ruolo di assessore al turismo. Ebbene in questo periodo è stata deliberata l'area interna, abbiamo creato i distretti turistici, abbiamo fatto in modo che il comune o meglio a seguito logicamente di consultazioni nel progetto MIBAC, Teggiano sarà e dunque il Vallo di Diano sarà comune capofila. Abbiamo creato le condizioni per, lei parlava del Cilento blu, Italo ed altro, stiamo lavorando anche sul discorso del distretto turistico. Insomma si sono create le condizioni per poter guardare alla prospettiva con grande serietà. Però è importante, ripeto ancora, che si raggiunga un accordo da parte con tutte le istituzioni. Andiamo a Montesano. Il comune guidato dal sindaco Giuseppe Rinaldi ha lanciato l'iniziativa per la concessione di WUSHER lavoro per i cittadini non più per settori di ammortizzatori sociali in deroga dal 2014. I cittadini che hanno i requisiti devono presentare apposita domanda entro le 12 del prossimo 31 agosto e si devono rendere disponibili a svolgere lavori di varia natura a servizio della collettività, ottenendo per tali prestazioni buoni di lavoro del valore lordo di 10 euro l'ora. I cittadini che faranno domanda saranno scelti secondo i seguenti criteri di priorità. Residenza del comune di Montesano sulla Marcellano nei comuni limitrofi distanti non oltre 30 chilometri dalla sede di svolgimento delle attività lavorative e avere un ISEE più basso quale elemento di priorità. Andiamo avanti, restiamo a Montesano dove è stato istituito il servizio in forma giovani come strumento utile in diversi ambiti ai giovani del territorio, la valorizzazione delle politiche giovanili al centro dell'attività dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana con delibera di giunta dello scorso 25 luglio ha istituito il servizio locale in forma giovani per fornire ai giovani del comune informazioni nell'ambito della formazione, domanda di lavoro, tempo libero, cultura e vita sociale. Il relatore dell'iniziativa è l'assessore alle politiche giovanili, Rosanna Pepe. La proposta è quella di insediare il servizio in sede fissa, fruibile e dinamica all'interno dell'appena inaugurato Palazzo Gerbasio, dichiara l'assessore Pepe, e installare in questa fase iniziale due bacheche divulgative in modo tale da diffondere in maniera capillare le informazioni sulle tematiche giovanili dividendole in sette aree di interesse. Lavoro, formazione, creare impresa, arte e cultura, sport e benessere, associazionismo, mobilità e turismo. Il servizio offrirà, continua a Rosanna Pepe, attività di orientamento sulle opportunità formative, lavorative e di mobilità presenti a livello locale, nazionale ed europeo, promuoverà incontri e workshop tematici in collaborazione con i gruppi e le associazioni del territorio, analizzerà i bisogni e le potenzialità dei giovani in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private del territorio. Inoltre si potranno, conclude l'assessore, avere notizie anche di altri campi, come ad esempio servizio civile, viaggio, vacanze e turismo, redigere curricula, tempo libero. Anche il sindaco Giuseppe Rinaldi si dice soddisfatto dell'iniziativa. Valorizzare, anche attraverso il servizio in forma giovani, le politiche giovanili all'interno del servizio comunale è una delle priorità della nostra amministrazione, afferma Rinaldi. Il servizio parte da Montesano ma si deve inserire nelle politiche giovanili più ampie del distretto 61 del Vallodiriano e guardare con particolare attenzione alla nuova legge regionale, costruire il futuro, nuove politiche per i giovani. L'amministrazione comunale conclude il sindaco all'obbligo istituzionale, politico e morale di lanciare stimoli, impulsi e opportunità ai giovani del territorio affinché questi li colgano valorizzando al massimo le proprie predisposizioni e le passioni di cui sono portatori. Andiamo a Padula con deliberati giunta. L'amministrazione comunale di Padula si è dichiarata disponibile ad assumere a partire dal 2017 testimoni di giustizia nel rispetto del vincolo di bilancio il paese di Gioe Petrosino, simbolo della lotta antimafia, quindi con l'amministrazione comunale sostiene ed è solidale con tutte le famiglie che hanno subito la violenza mafiosa e con tutti gli uomini e le donne che quotidianamente sono esposti sul fronte della criminalità. Con tale delibera il Comune ha quindi accolto la circolare del Ministero dell'Interno dello scorso marzo. Parliamo ora di economia e parliamo soprattutto del settore edile. Le attività dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili Salernitani che si portano avanti sono state al centro di un'intervista realizzata ieri al neoeletto presidente Vincenzo Russo. Il presidente russo nel corso del suo intervento ai nostri microfoni parla delle difficoltà che il settore sta attraversando, ribadendo ancora una volta come l'eccessiva burocrazia e spesso la principale causa del crollo del settore. Per russo si parla sempre più spesso della necessità di sburocratizzare ma ancora ad oggi nulla è stato fatto. Ascoltiamolo. È un settore in crisi ma bisogna crederci, ci crediamo e grazie anche al contributo nostro e dai nostri associati cerchiamo di creare ricchezza e di creare sviluppo nel territorio della provincia di Salerno e in particolar modo questo del Cilento in cui siamo, un territorio molto vasto, molto ricco che ha grandi potenzialità. Noi abbiamo voluto dare un contributo e accompagnare questa bella iniziativa di Laurino del Gets perché per noi anche la cultura è una cosa importante per l'imprenditoria quindi accompagnando queste tipi di iniziativa si riesce a portare anche ricchezza sul territorio. La battaglia importante da affrontare è quella della burocrazia, quella della sburocratizzazione quindi se ne parla tanto da anni in Italia ma purtroppo non si riesce ad arrivare a un principio in cui le cose dette vanno fatte. Il problema maggiore dell'Italia è questo qua, è questo che fra il dire e il fare c'è di mezzo del mare. Quindi la nostra battaglia è quella di dare una mano alle istituzioni, dare una mano ai nostri politici per cercare di eliminare quelli che sono i lacci e i laccioli della burocrazia. In molte occasioni ci accorgiamo che questo è un modo per gestire un potere. Invece noi pensiamo che le cose devono essere più semplici, più naturali e solo così si può aiutare l'imprenditoria ma nello stesso tempo si aiuta tutto il territorio, tutta la società perché appresso agli imprenditori ci sono i nostri dipendenti, ci sono le famiglie dei nostri operai e quindi noi crediamo che bisogna cercare di sburocratizzare il più possibile, cercare di velocizzare quelle che sono le procedure amministrative. 80 mila euro è la somma percepita in totale da 12 dirigenti della provincia di Salerno tra il 2013 e il 2014. Questi avevano guadagnato di più di quanto spettava e ora il presidente della provincia Giuseppe Canfor ha firmato due decreti per ordinare la restituzione delle somme percepite in eccesso. Un errore dovuto al mancato aggiornamento di contratto entro il 2012 come previsto dal contratto per la dirigenza. Parliamo ora di Regione Campania, un nuovo statuto per la Regione Campania che modifica le attività dell'Assemblea Campana. Dopo 90 giorni di attesa è stata promulgata la legge tra le novità principali, l'Istituto della Fiducia a cui potrà ricorrere il Presidente della Giunta regionale per ottenere la rapida approvazione di tutti i decreti legge. La fiducia infatti può essere estesa alle materie di particolare rilevanza che sono state individuate nel documento di Economia e Finanza regionale con 62 obiettivi relativi ad altrettante questioni e materie. Una sorta di acceleratore che potrebbe essere utilizzato in caso di ostruzionismo, un maggiore potere per il Governo che con il nuovo statuto punta a velocizzare l'approvazione delle leggi e soprattutto ad evitare che i disegni di legge si arenino in commissione e vengano dimenticati. Una svolta straordinaria la definita De Luca, finalmente Iter più snelli e più veloci. Andiamo avanti, torniamo a parlare del GAL Vallo di Diano, in diversi comuni infatti del Vallo di Diano continuano gli incontri promossi dal GAL per portare avanti le strategie di sviluppo. Appuntamenti previsti in questi giorni a Montesano e Teggiano oggi e poi Padula Pertosa e Sansa. In vista del prossimo periodo di programmazione 2014-2020 del PSR della Regione Campania, il GAL Vallo di Diano organizza laboratori di idee dei comuni del Vallo di Diano rivolte ai cittadini, imprese, istituzioni, parti economiche e sociali al fine di promuovere momenti di confronto e consultazione volte alla pianificazione di una strategia di sviluppo locale condivisa sul territorio. Oggi doppio appuntamento a Montesano sulla Marcellana, presso Palazzo Gerbasio ed a Teggiano presso il Chiosso di San Francesco, senza dimenticare gli incontri che si terranno nei prossimi giorni nei comuni di Padula, Pertosa e Sansa. I componenti del team di progettazione del GAL Vallo di Diano illustreranno le misure del PSR attivabili e raccoglieranno le diverse proposte avanzate dagli operatori locali attraverso questionari che saranno consegnate ai partecipanti agli incontri. L'invito alla partecipazione è steso a tutta la popolazione, vista anche l'importanza centrale che avranno le istanze presentate dagli attori locali. Tali istanze infatti saranno rielaborate per la predisposizione di interventi che andranno poi a costituire le basi della nuova strategia di sviluppo locale. Agli incontri odierni ad accompagnare il presidente del GAL Vallo di Diano Attilio Romano, anche il sindaco Giuseppe Rinaldi a Montesano e il sindaco Michele Di Candi a Teggiano. Domani ci sarà la volta di Padula presso l'aula consigliare di Piazza Umberto I e Pertosa. Presso l'aula consigliare ove insieme al presidente del GAL Attilio Romano interverranno anche i sindaci Paolo Imparato e Michele Caggiano. Venerdì 12 agosto 2016 l'evento si terrà a sanza nell'aula consigliare comunale alla presenza del sindaco Francesco De Mieri. Andiamo a Laurino, si conclude oggi la quattordicesima edizione della manifestazione musicale Regina degli eventi estivi cilentani. Stiamo parlando di Jazz in Laurino, un evento che in 14 anni è riuscito ad aggiudicarsi grande visibilità, visti anche gli importanti ospiti che raggiungono il borgo cilentano con concerti nella serata ma anche come docenti per i corsi di musica che vengono puntualmente organizzati ogni anno a Laurino. Da quest'anno i concerti si sono svolti nel nuovissimo anfiteatro che ieri sera era gremito in ogni suo posto per seguire il concerto del grande cantautore italiano Ron. Oggi ultimo giorno di musica a Laurino con la quattordicesima edizione di Jazz in Laurino, la manifestazione che ogni anno di più acquisisce maggior valore, raccogliendo un pubblico sempre più vasto e portando a Laurino un gran numero di turisti appassionati di musica provenienti non soltanto dalle località limitrofe ma da più parti d'Italia. Funziona infatti la formula che vede il piccolo paese del Cilento diventare per alcuni giorni in estate anche scuola di musica e approfondimento dell'arte con corsisti che decidono di proseguire il loro percorso formativo in un'atmosfera di festa. Quattordicesimo anno della manifestazione che riesce a portare anche nomi illustri della musica non soltanto come artisti per gli spettacoli che animano le serate estive ma anche come docenti dei corsi di musica che vengono organizzati durante la manifestazione e che rappresentano sicuramente il punto centrale dell'evento. Difficile l'organizzazione dell'evento e soprattutto mantenere sempre alto il target visto che l'ormai raggiunto successo che l'ha trasformato in una delle più attese manifestazioni estive del Salernitano proprio per la grande qualità di artisti che giungono nella splendida e suggestiva cornice di Laurino per proporre la loro musica. Anche in questa edizione 2016 che ha avuto inizio lo scorso 6 agosto i nomi illustri della musica non sono mancati come ad esempio il 7 agosto Carima e Dado Moroni Trio mentre ieri sera nel bellissimo e nuovo anfiteatro gremito in ogni sua parte il concerto del grande cantautore italiano Ron. Un concerto che oltre a presentare un altissimo livello musicale e artistico è anche voluto dedicare un attimo al sociale presentando il suo ultimo lavoro discografico in cui ha duettato con 24 grandi cantanti della musica italiana per la realizzazione del lavoro discografico La Forza del Dire Sì, progetto che sostiene l'associazione italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica per la ricerca contro la SLA. Ron infatti è da tempo impegnato a sostegno dell'associazione ed è vicino ai malati di SLA tanto da essere stato nella giornata di ieri a Vallo della Lucania per far visita a un suo grande fan affetto dalla terribile malattia. Anche quest'anno Laurino è stato quindi protagonista della musica offrendo spettacoli di grande pregio. Inoltre la soddisfazione della comunità è doppia essendo riusciti quest'anno a proporre anche un'importante offerta turistica. Oltre alla musica che ha raggiunto Laurino in questi giorni ha potuto anche vivere la straordinaria esperienza del volo a Laurino. La zipline che dal monte alla guardia, attaccato ad un filo, conduce direttamente nel centro storico di Laurino godendo di un panorama mozzafiato. Ascoltiamo ora le interviste realizzate ieri sera a Laurino in primis al cantatore Ron che ieri sera ha tenuto il suo concerto nel corso del quale ha anche presentato il suo ultimo lavoro discografico, la forza di dire sì. Nell'intervista Ron parla anche dell'iniziativa legata al lavoro discografico con i proventi che saranno interamente devoluti all'AIS, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, per sostenere le spese di ricerca contro l'ASLA. Inoltre ieri sera abbiamo anche ascoltato il sindaco di Laurino, Romano Gregorio, che parla dell'offerta turistica del borgo quest'anno arricchita con il volo a Laurino, la zipline che conduce nel centro storico. Infine abbiamo anche ascoltato le parole del direttore artistico di jazz in Laurino che sottolinea come si continuerà ad organizzare l'evento, non senza difficoltà. Ascoltiamoli. Beh sì, insomma, solamente una causa così importante poteva muovermi a... cioè è stato un lavoro di 6-7 mesi, insomma, fare un disco doppio con tutti questi cantanti, abbiamo poi fatto un video di Una città per cantare, cantato proprio, cantata tutta quanta dai 24 cantanti. Insomma, è stato un lavoro, forse uno dei più belli che ho mai fatto in vita mia, ma nel senso proprio di anima, è proprio... sono venuti tutti con un orgoglio incredibile, eravamo tutti lì per lo stesso motivo e questa è la cosa più emozionante. Ma secondo me la canzone, sai, è quel filo sottile che uno non vede, però ti entra dentro. E quando è bella, poi, meglio ancora, quando è bella, ecco, riesce a smuovere i popoli anche. Sai, non dimentichiamoci i nostri soldati in guerra, hai capito, che si tenevano su cantando. Insomma, questo... la musica è una cosa meravigliosa, per cui rendiamola utile anche per chi ne ha bisogno. Io non ho mai amato molto la sala di registrazione, mi sono sempre un po' annoiato. Ho bisogno sempre di avere la gente davanti e anche di rischiare, in fondo, no? Perché non è sempre così semplice. Però è bello perché ti metti in gioco, insomma. Io sul palco mi diverto, cambio le cose a volte, cambio la scaletta, a secondo della gente che c'è, a secondo del proprio dell'umore, no? Allora, un grande saluto da parte mia, di Ron, a Uno, a Uno TV, che è una televisione locale, ma è importante, bella. E poi un grande abbraccio a tutti voi, amici del Sud, perché anch'io sono del Sud, insomma, sono pugliese. Per noi il Festival Jazz costituisce un evento importante, ogni anno si arricchisce sempre di più. Quest'anno siamo alla quattordicesima edizione, con Ron questa sera, è un concerto bellissimo, tra l'altro in questo nuovo anfiteatro che con la cornice di persone diventa una cosa splendida. Ovviamente siamo particolarmente felici perché dai riscontri che stiamo avendo dai primi giorni, dove c'è sempre un pieno di persone, crediamo di aver fatto la cosa giusta perché abbiamo creato un attrattore turistico in grado di attrarre persone per il nostro paese e non solo, anche per tutta l'Alta Valle del Calore. Noi rappresentano un evento importantissimo, ma non solo dato dai concerti che pur hanno la loro valenza, ma soprattutto dai seminari che facciamo a oltre 100 ragazzi che vengono da tutto il mondo e che ogni anno per una settimana vengono a studiare qui nel nostro paese e diventa una cosa bellissima. Laurina diventa il paese della musica, la città della musica integrale. Noi puntiamo soprattutto sui giovani, tutta la nostra azione mira a questo, mira a creare occupazione stabile per i giovani di modo che non devono necessariamente andare via, ma possono trovare occupazione a Laurina, creare una famiglia e frenare lo spopolamento che purtroppo è una piaga che ci attanaglia da tanto tempo. Oramai la quattordicesima edizione noi abbiamo puntato molto sul luogo, esattamente questo, perché è fondamentale per un certo tipo di musica. Io ho sempre ritenuto che il rock, il pop si fa negli stadi, si fa in posti grandi, invece ci sono dei luoghi appunto come Laurino dove c'è bisogno di un certo tipo di musica. Il jazz è funzionale per questo tipo di musica. qui sapete che facciamo questo workshop, è lì che mettiamo tante risorse, perché sono cinque giorni di workshop dove arrivano ragazzi da ogni parte d'Italia, quest'anno addirittura anche dall'estero siamo arrivati a cento ragazzi che tra l'altro pagano anche 250 euro e portare fino qui tutti questi ragazzi non è facile. Direi che le istituzioni locali ci stanno aiutando, però abbiamo bisogno anche di un contributo a livello regionale, anche perché anche lì insomma arrivano in altri posti, devono arrivare anche qui. Andiamo a Teggiano, questa mattina presso la chiesa di San Benedetto si è tenuta la conferenza stampa del convegno degli scrittori italo-canadesi in programma presso la certosa di San Lorenzo a Padula a partire da domani 11 agosto e fino al prossimo 14 agosto. Presente per noi all'evento c'era Pietro Cusati che ha raccolto le parole del Vescovo, Monsignor Antonio De Luca, del sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, dell'assessore regionale al turismo Corrado Matera e di Angela Adalto, vice sindaco del comune di Monte San Giacomo, oltre che di Antonio Mastrandrea, responsabile dell'area comunicazione Banca Montepruno. Sono contentissimo per questa cosa, era forza sempre di più il mio pensiero che ho detto pure ieri nella conferenza stampa a Salerno per quanto riguarda la conferenza della tavola della principessa Costanza, che dico che l'associazione è il DNA di ogni istituzione, perché attraverso l'associazione si riesce a portare il meglio e si porta anche la passione, perché dico questo? Perché attraverso l'associazione, vedi il caso specifico che ringrazio dando la nuova Civitas di Padula, ha messo all'impiede un progetto di largo respire. Portare 70 scrittori ed artisti in questo territorio significa far conoscere questi territori e fare il vero turismo. Questo significa che niente è più facile, può nascere che qualcuno di loro si appassiona a questi territori sempre di più e compra anche casa. Questo è quello che noi dobbiamo fare in questo momento. Io ritengo che noi dobbiamo lavorare in sinergia tutti quanti insieme su questi obiettivi. Gli attrattori del Valoridiano, dove conservano la storia, i beni architettonici di questo territorio e che ce li invitino tutti, è che la Regione si sta già muovendo, dando spazio e respiro nell'entroterra per mettere insieme l'azione centrale con quella periferica. Detto questo, penso che siamo a buon punto e incominciamo ad andare nella direttazione giusta. Questa sicuramente è un'altra importante e bella iniziativa che si realizza sul territorio. Saranno tre le giornate, Teggiano, Padula e Monte San Giacomo. È uno scambio di opinioni, sicuramente uno scambio culturale tra opinioni diverse, ma io penso che il dato più importante è che ci sono le condizioni per iniziare a parlare anche di turismo di ritorno. E questa è sicuramente oggi una giornata di grande riflessione per iniziare un percorso nuovo che avvicina i tanti che negli anni passati si sono allontanati dalla nostra terra. Abbiamo accolto con grandissimo piacere l'invito a partecipare a queste tre giorni. Per noi è naturalmente un motivo di grande soddisfazione perché è un'iniziativa unica. Saranno ospiti una grande quantità, una cinquantina di scrittori dell'Associazione Scrittori Italo-Canadesi e nello specifico saranno ospiti del nostro centro studi Palazzo Marone e di conseguenza dello stesso Palazzo Marone il 12, venerdì 12, a partire dalle 19.30, dove ci sarà appunto un incontro sul tema mezzogiorno, emigrazione e narrazione. Quindi un tema anche di grande fascino, oltre che di straordinaria attualità. Un importante appuntamento di carattere culturale che viene presentato qui stamattina in un bellissimo luogo che è questa chiesa di San Benedetto a Teggiano. La nostra branca, come sapete, è sempre presente e attiva a questo tipo di iniziative. Arriveranno delle importanti professionalità anche dal Canada, quindi si allarga quello che è il bacino d'utenza che potrà fruire di questo territorio. Il nostro supporto deriva dalla forte volontà di incentivare quelle che siano queste opportunità, sia di carattere culturale, ma soprattutto quelle nate per promuovere il territorio del Vallo di Diano. E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg. Andiamo a Sant'Arsenio. Torna con la sedicesima edizione, la rievocazione storica delle gesta del brigante Tittariello, personaggio storico vissuto nel 1600 a Sant'Arsenio. Nei giorni del 17 e 18 agosto, grazie anche al contributo della Banca Montepruno che ha sostenuto l'iniziativa, le strade di Sant'Arsenio si vestiranno a festa con l'iniziativa promossa dalla locale Proloco, presieduta da Mario Marmo, che prenderà il via con il corteo storico e la rievocazione dello scontro a fuoco con armi d'epoca tra i briganti e i soldati italo-spagnoli. Lungo il percorso ci saranno poi botteghe d'epoca, taverne, locande e bivacchi dove poter degustare specialità tipiche della cucina locale. Il corteo partirà alle ore 18 e 30 da piazza Domenico Pica per poi dirigersi verso Borgo Serrone. Intorno al personaggio del 600, Giovanni Battista Avricella, meglio noto come il brigante Tittariello, guida di circa 300 fuori legge, spinto al brigantaggio dalla povertà ma anche dalla volontà di liberare il suo popolo dall'oppressione. Si cerca quindi di valorizzare il centro storico santarsenese e di farne apprezzare la cucina locale. La storia ancora una volta quindi diventa tema di promozione della cultura e della tradizione. Ieri sera a Santarsenio in località Borgo Serrone presso la sala multimediale si è tenuta la presentazione della manifestazione in conferenza stampa moderata da Sebastiano Greco alla presenza del sindaco Antonio Coiro, del presidente della Proloco Mario Marmo, del responsabile area comunicazione della Banca Montepruno Antonio Mastrandrea e dell'assessore regionale al turismo Corrado Matera. Siamo reduci da un tour de force, davvero è proprio così. Ci sono stati cambiamenti all'interno della Proloco e questo ci hanno portato un po' fuori dal target di marcia però nonostante ciò siamo stati perseveranti e abbiamo creduto in quello che abbiamo già iniziato a fare all'inizio dell'anno e l'abbiamo portato a termine. Oggi c'è stata la presentazione, abbiamo avuto l'onore di avere con noi l'assessore al turismo Corrado Matera, abbiamo avuto l'onore di presiedere insieme al dottore Romano, insieme al presidente del Gallo, questo sicuramente ci fa piacere. Il brigante di Tittariello alla sedicesima edizione oramai è diventata una storia già abbastanza conclamata, quindi è entrata a far parte nell'animo dei sandersenisi e noi abbiamo tutta l'intenzione di portarla avanti. Anche se di Tittariello non si sa bene tutta la storia, anche perché lui non era un brigante, bensì era un bandito, insomma perché il brigandaggio come sappiamo viene dopo il 600, però come un sandersenese pochi giorni fa ha scritto Tittariello da una storia di briganti, tra briganti e fantasia, è la verità perché non si sa bene la storia, quindi noi prendiamo Tittariello sia come briganti ma non solo, ci abbiamo costruito un po' di storia, un po' di fantasia e quindi la portiamo avanti. Vogliamo laurizzare il nostro centro storico, anche perché ogni comunità ha la sua parte storica e quindi come tale noi vogliamo dargli un interesse, non vogliamo che questi centri vengano abbandonati nel modo più assoluto, noi speriamo e convidiamo nell'assessore al turismo Grado Matera che sia come dire il promotore del nostro territorio, anche perché lui è del nostro territorio e quindi ha un po' il dovere, diciamo così, di portarlo avanti il suo territorio. È fondamentale fare rete, dicevi benissimo, anche perché il nostro sforzo che è un contributo non solo economico ma anche di partecipazione e di supporto alle manifestazioni, altrimenti sarebbe fine a se stesso. È importante che tutte le istituzioni e quindi i comuni, le proloco ma anche gli enti sovracomunali, diano il loro forte contributo alla realizzazione di queste manifestazioni. Le sinergie oramai sono all'ordine del giorno, è fondamentale svilupparle, è fondamentale metterle in piedi anche perché oramai da soli non si va da nessuna parte. Giustamente si sottolineava durante la conferenza stampa sia stamattina a Salerno, sia oggi a Sant'Arsenio che è importante fare rete anche tra gli eventi del territorio perché è indispensabile inserirli in un determinato circuito e con l'occasione anche per evidenziare come viviamo una fase importante per il nostro territorio dove la presenza dell'assessore regionale Matera e la presenza del Presidente del Parco, Tommaso Pellegrino, possono sicuramente facilitare questo tipo di discorso. Noi come Banca Montepruno siamo soddisfatti e siamo convinti che siano due personalità, due istituzioni che possono sicuramente facilitare questo discorso di sinergia sul territorio. Diciamo che il nostro ruolo oggi è quello di essere presenti sui territori attraverso un'azione forte che possa promuovere quindi socialità, possa promuovere cultura. La riforma oramai è legge, stiamo attendendo quelle che siano le disposizioni attuative. Da parte nostra non mancherà sicuramente l'impegno e come sempre ha detto il direttore albanese non sarà sicuramente la riforma a fermarci. Noi continueremo con forza anche perché sta scritto nei nostri statuti, è quello che guida la nostra azione quindi continueremo a farlo. Ci dovranno dire poi a un certo punto di non farlo più però questa sarà un'altra storia che speriamo sicuramente di non raccontare. Tutto pronto per l'edizione 2016 del Festival Internazionale della Chitarra che si terrà tra Polla, Lago Negro e Latronico a partire da venerdì 12 agosto per concludersi il 27 agosto. Ritorna anche quest'anno il Festival Internazionale della Chitarra, la manifestazione giunta alla 33esima edizione che si terrà presso il Covento di Sant'Antonio a Polla. Si partirà venerdì 12 agosto con il concerto Suoni Convergenti che vedrà le esibizioni di Antonio Caggiano alle percussioni e Sergio Sorrentino alla chitarra elettrica. Il 13 agosto sul palco salirà Francesco Dominici Burraccini con la sua chitarra. Infine il 24 il concerto finale, la presentazione del volume 14 studi sulla creatività di Sergio Sorrentino. La manifestazione organizzata dall'Associazione Amici della Musica del Lago Negrese coinvolgerà anche le città di Lago Negro e Latronico. Il 20 agosto a Lago Negro ci sarà la chitarra di Leonardo De Marchi al Teatro Iris e il 21 presso la chiesa della Madonna delle Grazie e Latronico il duo Francesco Venga, Alviola e Duilio Meucci alla chitarra. Infine il 25 e 27 agosto al Teatro Iris di Lago Negro gli ultimi due appuntamenti con il due cordaminazioni. Marcello De Carolis e Luca Fabrizio e il 27 Salvatore Lombardi al flauto e Giulio Tampalini alla chitarra. Partner della 33esima edizione del festival, la BCC di Buonabitacolo insieme alle amministrazioni comunali di Lago Negro, Latronico, la regione Basilicata e il Ministero per i beni e le attività culturali. Andiamo a Sassano dove ieri sera presso Palazzo Babbino, saggio di fine anno dell'Istituto Arti Sceniche Vallo di Diano diretto da Giancarlo Guercio che ritorna al timone dell'Istituto dopo una breve parentesi di direzione artistica affidata a Eva immediato. Ieri la scena in scena alle mosche di Sartre. Presente in sala il sindaco Tommaso Pellegrino e tutta l'amministrazione comunale. Per noi a seguire l'evento c'è la Pietro Cusati. Questa sera finalmente siamo arrivati alla prima delle mosche, spettacolo e testo di Jean-Paul Sartre. Abbiamo lavorato ad un allestimento davvero straordinario con quasi 30 artisti in scena tra tecnici, attori, assistenti, scenografi. Davvero un lavoro straordinario. Credo che nel nostro territorio ma anche noi stessi come istituto, come attori, come artisti difficilmente abbiamo fatto dei lavori così belli, così pieni, così intensi. Io da sempre collaboro con Giancarlo e praticamente questo ruolo di Cassandra lo ha voluto fortemente all'interno dello spettacolo e a dire la verità questo testo è un testo molto particolare perché sembra di staccarsi, però in realtà è fa da filo conduttore a tutta quanta la vicenda delle mosche di Sartre, così come è stato riadattato chiaramente da Giancarlo Guercio. Il mio è un cammeo, praticamente ci sarà un mio momento in cui apparirò praticamente in un'escena e dirò delle cose. Quindi è un cammeo che tra l'altro abbiamo scritto insieme io e Giancarlo. Questo è il risultato di un lavoro fatto per circa un anno con il laboratorio che noi teniamo a Silla e devo dire che lavorare a Silla, lavorare qui nelle vostre zone è una delle cose più belle, più entusiasmanti almeno per me. Spero che stasera il risultato di tutto questo lavoro sia piaccia perché noi ce l'abbiamo messa tutta. È stato un lavoro di ricerca sia dal punto di vista letterario e sia di testi e di un percorso soprattutto recitativo che per quanto riguarda gli allievi penso che stasera vedete degli ottimi risultati. Una bella iniziativa ma soprattutto complimenti a Giancarlo Guercio innanzitutto ma a tutti i ragazzi e tutti gli attori possiamo definirli così anche perché hanno fatto una scuola teatrale. Noi siamo sempre più orgogliosi del nostro istituto di arti sceniche che ormai da qualche anno una delle più belle realtà a Sassano ma nel Vallo di Diano è un momento di grande aggregazione e devo dire proprio vedendo il lavoro che hanno fatto proprio questa sera è un momento anche professionale di bellissimo livello e chiaramente che qualifica è un momento che qualifica il territorio e rappresenta un momento culturale molto bello nel qui a Sassano ma anche nel Vallo di Diano. A Teggiano tutto pronto per la quinta edizione di Notti Divine in programma nei giorni del 16 e 17 agosto. Nel prossimo servizio seguiamo il programma della manifestazione. Il prossimo 16 e 17 agosto a Teggiano si terrà la quinta edizione di Notti Divine, la manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale di Azioni che si terrà in Piazza 4 Novembre nel Centro Stolico Cittadino. Diverse le novità messe in campo per l'edizione 2016. Grazie alla partnership esiglata con due aziende del territorio si punta a dare uno slancio innovativo al progetto. È stato affidato all'Enoteca Casillo Wine di Sala Consilina il compito di selezionare i vini presenti alla manifestazione riuscendo a portare a Teggiano importanti cantine italiane famose in tutto il mondo. Mentre con la Locanda Severino e lo chef Stellato Vito Antonio Lombardo, altra partnership per l'area food. Allo chef il compito di realizzare un abbinamento enogastronomico in solito, quello tra vino di qualità e lo street food. Infatti per l'occasione lo chef della Locanda ha previsto la realizzazione di un menù ricco di prelibatezze culinarie che derizzeranno il palato dei partecipanti. Ad allietare la manifestazione ci saranno due coinvolgenti esibizioni musicali. Il 16 agosto si esibirà Neipoterico, quartetto composto da tre chitarristi e un percussionista di Trentinara, mentre il 17 agosto, sempre in Piazza 4 Novembre, sarà la volta di Pina Speranza e Cilento Tarant, un gruppo che da anni ha attraversato il Cilento e la sua storia con la sua ricerca musicale, volta all'autenticità e alla dimensione più intima e verace della terra cilentana. Salerno e provincia non sono sportive. Se c'è tanta passione nel seguire lo sport, diverso invece il discorso per quanto riguarda la pratica, mediocrità diffusa e assenza di talenti. Poi le carenze di strutture e organizzazione rende l'area non certo un'eccellenza dello sport. Un report annuale, quello stilato nei giorni scorsi da Il Sole 24 Ore, che disegna un quadro non certo entusiasmante per lo sport a Salerno e provincia. Strutture carenti e assenza di talenti contribuiscono a far definire la nostra provincia come una zona non certo patria di sportivi. Dall'analisi condotta, dalla testata economica, se vince come Salerno e provincia si posizioni al 75esimo posto. La grande passione con cui si segue lo sport fa da contraltare alle prospettive non certo positive per lo sport praticato. Emerge una mediocrità diffusa con assenza di picchi rispetto agli altri capoluoghi. Una situazione determinata da diversi fattori. L'assenza di strutture sportive idonee, l'assenza di un'organizzazione capillare su tutto il territorio, la mancanza di talenti che sono costretti in alcuni casi ad emigrare per provare a esprimere al massimo le loro potenzialità. Le classifiche stilate sono impietose per Salerno, 49esimo posto per le discipline di squadra, seconda in campagna dietro Avellino, 54esimo posto per i risultati ottenuti dalle attività non agonistiche, centesimo posto negli sport individuali. Mancano le star, ma il dato ancora più inquietante è che Salerno non compare nelle prime cinque posizioni delle classifiche riservate all'indice di sportività in cui vengono considerati, numeri di tesserati, società dirigenti, le attività formative legate allo sport e i risultati ottenuti nelle discipline più amate e praticate, dal calcio finendo la scherma e arti marziali. Risultati discreti per il basket nelle attività di base per i bambini che piazza Salerno al tredicesimo posto, una situazione dunque disastrosa che al di là di tutto rende la Salerno e provincia un'area non sportiva. Termina qui il nostro Tg, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata.